Che cosa vuol dire fare l'eremita? Ma è facile fare l'eremita? Ma non avevano paura delle vipere? Io ho dei vertigini E quando faceva caldo? E non avevano freddo? E ci si ammalavano chi li curava? Ma avevano la televisione? E ci si ammalavano chi li curava? E' bello che non dovevi fare i compiti E qui mi preparava la collezione? E qui mi preparava la collezione? E qui mi preparava la collezione? Ma gli amici non avevano mai freddo? Guarda che bella questa pianta Ma non avevano paura delle vipere? E non avevano freddo? Ma avevano la televisione? Io ho dei vertigini Bello che non dovevi fare i compiti E qui mi basi